Benvenuti su LeonTube, eccoci qui su Asphalt 9 Legend per Switch dove oggi è stata introdotta un nuovo evento giornaliero, il Black Friday Andiamolo subito a vedere un evento che possiamo fare con tutte le nostre auto del garage Per i primi migliori 1% pacchetti di classe S 300.000 crediti Puoi ascendere il 5% classe A 200.000 crediti Nei migliori 25% classe B 100.000 crediti Puoi ascendere classe C e classe D fino alla fine Premi, diciamo niente di che, per un Black Friday diciamo siamo abituati un po' a dell'altro Oppure 10 pacchetti qui, premi in singolo Dove possiamo trovare tutte queste auto che servono un po' a chi è più nuovo del gioco Chi è un po' più avanti le ha già tutte completate Poi abbiamo gli obiettivi dell'onda nitro fino a 12 Quindi possiamo, con 12 onde nitro possiamo avere 5 token blu e 7.500 crediti E poi l'altro obiettivo sono le espulsioni Con 6 espulsioni, 5 token blu e altri 7.500 crediti Questo per un massimo di 5 volte E niente, quindi possiamo arrivare a fare 50 token blu e 75.000 crediti Diciamo che i premi sono abbastanza bassi Insomma, niente di accattivante Comunque abbiamo 9 giorni, anche 10, per fare tutto questo evento E un ticket Costa un ticket fare questo evento Quindi andiamo a farlo Usiamo un po' che auto uso Andiamo indietro Indietro Vabbè, prendo questa qui La 599 XX EVO Andiamo a fare Un tentativo, giusto per vedere anche un po' la pista Onda nitro, facile da fare Anche se sono 12 Mentre più difficile forse le espulsioni 6 espulsioni Anche se il tracciato è lungo Se siamo lontani dai Dagli avversari Difficilmente riusciremo a fare le 6 espulsioni Comunque non è detto Magari riusciamo a farle un po' verso l'inizio E poi gli avversari forse sono anche forti Andiamo forti fino all'altra guardia Andiamo un po' Ok, c'è Ok, facile da fare Perché c'è Sono già 2 on denitro 3 espulsioni 4 5 6 On denitro non l'ho vista Ah, ora ecco Si fa 1 si stoppa 2 si stoppa 3 si stoppa Ah, ci sono anche la polizia Quindi espulsioni Diciamo che sono facili da fare E da fare appunto Con le onde nitro Palo Ok, cerchiamo di fare altre onde nitro Perché ho perso il fondo Ok, quindi è abbastanza facile Fare anche le espulsioni Intanto la polizia che ci aspetta Prendiamo un po', prendiamo Adesso hanno fatto Una combo Ecco qua Di 11 Oh mamma Questo mi ha tagliato proprio la strada Di netto Ovvio che se arriviamo Avanti nelle posizioni Ci dà anche un premio di credito Migliore Ok, ancora manca Il 20% Posizione pessima Ma adesso stiamo facendo Per i premi Stiamo puntando ai premi Quindi È praticamente penultimo Ma dovrei aver fatto tutti gli obiettivi E questa è la cosa migliore Fare tutti gli obiettivi Poi alla fine ci concentriamo Sul tempo di gara Ok, quindi è abbastanza facile da fare Si riesce a fare Nulla di complicato Ma premi decisamente piccolini Ok, se il video vi è piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Non dimenticate di lasciare Un commento nel video Se vi va come sempre Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale E vi invitiamo a iscrivervi anche al nostro club A9ita E non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere gli aggiornamenti Ciao a tutti E vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale E vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale